ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi ricomincia il format delle top ovvero andiamo a vedere i migliori giocatori ruolo per ruolo di fifa 23 difatti sono tantissime le domande che mi lasciate sia sotto i commenti youtube che in live nella piattaforma viola dove mi chiedete quali giocatori sono meglio rispetto ad altri allo stato attuale quindi andando a fare queste classifiche voglio fugare tutti i vostri dubbi oggi iniziamo con i difensori centrali e la classifica che vedrete questa top ten è fatta in ordine di gradimento quindi partiremo da quello che è il più forte a quello che secondo me è l'ultimo di questa mia personalissima top 10 ma comunque parliamo di tutti e 10 giocatori molto molto validi detto questo andiamo a vedere subito chi è il primo il primo difensore che occupa il gradino più alto del podio è il suo fenomeno del calcio mondiale difensore che ha scritto la storia di varie squadre in questa versione heroes del campionato italiano ovviamente facciamo riferimento alla sua esperienza in italia con l'inter del triplete e questo è un giocatore veramente incredibile un metro 88 la sua altezza normale alto il work rate quindi vuol dire che tiene bene la posizione ma quello che mi fa impazzire è il suo body type perché un giocatore alto spesso che regge benissimo i contrasti quando deve spalleggiare gli avversari che van via e in particolar modo con quelli che sono gli attaccanti meta attualmente quindi vari oland cristiano ronaldo un bappeggino la che sono giocatori anche oltre a essere veloci molto fisici lui veramente e penso sia l'unico che non soffre sempre molto pulito non perde mai non inciampa quindi lo amo veramente è stato una delle svolte all'interno della mia squadra andiamo a vedere le statistiche velocità scatto 84 premiata dal sostile di corsa lenghty ovvero la corsa progressiva che va a sfruttare proprio quell'attributo lì ottimo anche il passaggio corto utile in fase di impostazione buone le statistiche di dribbling 73 di agilità 87 di reattività lo rendono molto molto fluido con l'l2 quando si tratta di dover temporeggiare tanta roba le statistiche difensive spicca in particolare il 90 di intercettazione il 92 di precisione testa il 91 di lettura difensiva che lo renda veramente incredibilmente automatico e a completare l'opera ci si mette anche un 91 di forza un 89 di aggressività che lo rendono veramente spaventoso difatti è uscito molto bene sia quando si tratta di dover anticipare che quando si tratta di dover mettersi dentro l'area di rigore e coprire quanto più spazio è possibile lui veramente se avete un budget a disposizione e non sapete che acquisto dopo fare in difesa io penso che questo qua lo andate ad inserire e non lo togliete più fino ai toti o lo togliete qualora doveste trovare solamente la versione world cup che dovrebbe uscire a novembre a fargli compagnia sul gradino leggermente più basso ovvero il secondo del podio troviamo virgil van dyck altro giocatore spaventoso che nel gruppone delle carte oro quindi quelle base per me occupa la posizione più alta un metro e 93 anche lui normale alto come work rate quindi perfetto per quanto riguarda il body type stesso discorso di lucio perché è molto grosso fisicamente non teme gli scontri fisici con i giocatori avversari anzi li bullizza praticamente in maniera sistematica e anche lui grazie al suo stile di corsa lengthy praticamente ignora quel 68 di accelerazione a favore del 91 di velocità scatto che lo premia e in campo aperto lo fa essere veramente un qualcosa di incredibile perché recupera con quei gamboni praticamente chiunque anche per lui un discreto passaggio corto e a questo vi si accompagna anche un 86 di lungo che può fare sempre comodo qui un pizzico meno di agilità ma ottima le reattività che quindi un po' compensa infatti anche lui con l2 è veramente molto solido statistiche difensive top 90 di intercettazione 87 di precisione testa 92 di lettura difensiva e anche qua abbiamo un onestissimo 93 di forza e 85 di aggressività vuol dire che sto virgil oltre ad essere tremendamente automatico è anche tremendamente aggressivo e quando si attacca all'uomo avversario tanto è contento quando gli strappa via il pallone quindi veramente straconsigliato virgil che per quelli che sono i prezzi che stanno girando non costa neanche troppo al terzo posto andiamo a chiudere il podio con eder militao giocatore di un metro 86 work rate normale normale non preoccupatevi non è un problema il fatto che non abbia alto in difesa perché comunque la posizione la tiene bene con la differenza che con lui magari potete uscire anche un pizzichino più alto perché alle volte tenderà a ritrovarsi in posizione leggermente più avanzata per quanto riguarda i dettagli delle sue statistiche abbiamo un ottimo 88 di velocità scatto che potete andare a premiare con l'applicazione dello stile di intesa ancora in maniera tale che la sua corsa da controll e diventerà anche in questo caso lenti favorendo il recupero in campo aperto sugli avversari anche qua dei buoni passaggi 70 di agilità e 85 di reattività top per l'utilizzo di l2 statistiche difensive che rispetto ai suoi due compagni di podio non sono così alte ma sono di tutto rispetto visto che abbiamo 86 di intercetto 85 di lettura che sono le cose che ci interessano di più e poi abbiamo un 84 di aggressività e la nota dolente del 79 di forza perché purtroppo alcune volte questo militao va a perdere un po' troppo quando si tratta di contrastare giocatori molto fisici infatti rispetto ai due precedenti io utilizzavo in coppia con virgil proprio lui e alcune volte notavo che quando si ritrovava contro olando cristiano ronaldo sto militao faceva fatica alle volte con delle spallate volava via però onestamente per quello che ti dà in termini di velocità in termini di aggressività non potevo escludere militao dal podio scendiamo sul cucchiaio di legno e al quarto posto troviamo antonio rudiger per me al momento c'è un ballottaggio molto serrato tra lui ed ed er militao questa è la versione one to watch ma ovviamente facciamo riferimento anche alla carta oro visto che le statistiche sono le stesse un metro e 90 per lui stavolta il work rate è alto alto quindi con lui potete anche permettervi il lusso di poter uscire belli alti perché non disdegna questo tipo di interventi il difensore tedesco del real madrid statisticamente anche lui un length di corsa con il 91 di velocità scatto come virgil un toro buoni passaggi ottima dare attività qui pecchiamo ancora un po di agilità si scende ad un valore abbastanza basso però compensato l'equilibrio per quanto riguarda i difensori non è eccessivamente un problema perché viene compensato dalla forza come in questo caso 90 92 l'aggressività ottime le stats difensive 84 di intercetto 88 di lettura difensiva fanno sì che rudiger per me si giochi il terzo posto un po con per con militao ma per il mio gusto personale al momento gli preferisco il brasiliano al quinto posto un altro giocatore che quest'anno ha cambiato camiseta che è culibali che praticamente prende il posto di rudiger al celsi un metro 87 normale alto che praticamente il work rate perfetto per i difensori centrali stile di corsa lengthy velocità scatto 88 un passaggio corto reattività 83 anche qua pecca un po di agilità ma con l l2 si muove comunque discretamente bene ottime stats difensive forza altissima con l'aggressività siamo pelo pelo però calidu secondo me è veramente top quest'anno perché anche qua abbiamo un fisico veramente possente che non gli fa perdere praticamente mai contrasti con gli avversari molto fisici al sesto posto andiamo invece a trovare un giocatore della promo dei road to the knockouts ovvero ibrahima conate un metro e 94 normale alto anche lui la possibilità di upgradarsi stile di corsa lengthy che quindi sfrutta l'89 di velocità scatto buon passaggio corto reattività 81 qui saliamo con l'agilità 64 infatti questo conate reagisce molto bene nonostante l'altezza con l2 col 81 di reattività riesce anche a star dietro ai cambi di movimento avversari discretamente statistiche difensive altissime forza 91 aggressività 85 per quello che attualmente anche visto il prezzo è un difensore molto molto completo poi francese di premier league insomma è anche facile da ibridare settimo posto per una conoscenza nota ovviamente che è quella di marchignos che però quest'anno non è efficace come l'anno scorso anche qui andando ad applicare ancora è possibile avere uno stile di corsa prolungato quindi lengthy che vi consiglio di fare un metro 83 normale alto solito work rate sfruttiamo l'81 di velocità scatto anche se qua la corsa è un po più bilanciata ottimi passaggi saliamo di agilità di reattività con 88 68 stats difensive altissime pecchiamo però in forze di aggressività ed è proprio questo che mi fa storcere il naso perché quest'anno sto marchini rischia di essere veramente preso a pallate dai vari oland cristiano ronaldo che gli danno fastidio anche mbappe che ha un bari centro basso più equilibrio rischia di essere un problema per questo marchignos ottavo posto per tomori giocatore inglese del milan che ha avuto un bel boost statistico normale alto il work letto un metro 85 86 di velocità anche per lui lo stile di corsa è quello lengthy velocità scatto 90 che appunto lo va tanto a favorire siamo più alti qui con i parametri di equilibrio agilità e reattività rispetto alle due carte precedenti infatti con l l2 lo sentiamo tutto ottime le stats difensive anche qua con forze aggressività non siamo su parametri altissimi però tomori soprattutto per quanto riguarda una serie a è il difensore più forte a mani bassissime donna posto per con d anche lui con ancora è possibile andare a utilizzare lo stile di corsa lengthy quindi prolungato anche se qua parliamo di un giocatore di un metro 81 quindi non proprio altissimo e le cose non è che cambiano chissà quanto alto alto il work rate quindi stile rudiger potete uscire un po più alto bilanciata la velocità buono i passaggi ottima agilità equilibrio e reattività statistiche difensive che sono praticamente tutte sopra l'80 qui però purtroppo pecchiamo con forze aggressività quindi io ve lo vado a inserire in questa classifica perché comunque per quanto riguarda una liga è ottimo però purtroppo pecca un po' quando si ritrova avversari molto fisici contro chiudiamo questa classifica con arauco sorpresa di quest'anno quello che secondo me è il kim benpè dell'anno scorso un metro e 92 normale alto già stile di corsa perfetto che sfrutta l'84 di velocità scatto qui abbiamo equilibrio e agilità inferiori rispetto a carte di questa classifica però buona reattività statistiche difensive onestissime 81 intercetto 82 di lettura van bene 86 di forze 84 di aggressività non sono un problema visto che in questo caso parliamo di un giocatore di un metro e 92 per quello che costa un bagatone praticamente che io vi consiglio se dovete andare a mettere magari un difensore un po più chip accoppiato ad uno dei giocatori che vi ho fatto vedere prima ragazzi per questa prima top ten è tutto fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi giocatori se avete qualche altro nome che avreste voluto vedere all'interno di questa classifica a me non resta altro che augurarvi una buona giornata vi aspetto tutti i giorni live sulla piattaforma viola un saldo neri beroski ciao